Bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video della Maullocraft Siamo tornati anche qui dopo un sacco, aspettate che sto vomitando, faccio il moonwalk, moonwalk, ok, moonwalk Guardate, guardate come salgo i gradini al contrario, ciao fuffi, dai dai così, signori Bella così, allora aspettate, fatemi cambiare in quattro ore che sto vomitando Signori, bella a tutti, siamo tornati con la Maullocraft, signori, tanta roba, tanta roba Avevo lasciato questa serie da, non so da quanto tempo, stiamo ritornati qui per continuarla Non ricordo assolutamente niente, però avevamo un bel mondo, se non ricordo male Detto questo, signori, prima di partire col video, io vi ricordo di iscrivervi al canale Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che sta dando a questa serie E che darete a questa serie Vi ricordo di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Maullo941 E sull'altra piattaforma, quella viola, in cui portiamo le live Quindi vi suggerisco di seguirmi anche in quella, mi trovate anche lì come Maullo941 Detto questo, signori, facciamo un bel tuffo a mare e ci partiamo con il video Aia! Ok, signori, allora, l'ultima volta che abbiamo portato questa serie, che io non ricordo male Eravamo pronti per andare a trovare la fortezza del drago, signori La fortezza dove c'è il portale, infatti se io apro il menu, noi già ci eravamo preparato tutto praticamente Abbiamo l'ossidiana, abbiamo gli occhi del drago, gli occhi del nether, l'enderpearl, gli stivaletti d'oro Abbiamo tutto, signori, abbiamo il carbone, abbiamo il cibo, abbiamo le torce di riserva, abbiamo gli strumenti Possiamo andare alla ricerca della fortezza Quindi io direi di non perdere tempo, signori L'unica cosa che non abbiamo è il letto Questa è l'unica cosa che forse rimpiangerò di non portarmi E quasi quasi me lo vado a fare velocemente Un letto di riserva, non ti sa mai Metti che dobbiamo dormire in una foresta durante il tragitto Meglio dire che ce l'abbiamo dietro Che dire, oh mio Dio, ce la siamo dimenticata Quindi mi faccio velocemente un letto, che era l'unica cosa che me l'ho dimenticata a fare E partiamo per la spedizione Ok, signori, abbiamo fatto un letto bellissimo giallo Brutto, molto, molto brutto Però il giallo è un bel colore, il bel colore è il nostro colore Quindi il letto ci sta bello giallo Allora, io direi, per avere il più visuale possibile Di salire un attimino qui sopra Che comunque siamo in alto Quindi andiamo verso là dove c'è la farm di scheletri, signori Ovvero là, sperando che... Ecco, mi sono già rotto le ginocchia Ancora non siamo neanche partiti Andiamo in questa direzione di qua Così abbiamo visuale, sperando di non perdere subito la prima enderpearl E... Lanciamo, signori Da che c'era l'è? Dov'è? Ah, di là, ok Dobbiamo andare in quella direzione Non ti romper, ti prego, non ti romper Oh, per fortuna non si è rotta Ok Recuperiamo l'enderpearl Mangiamo E iniziamo la nostra avventura, signori E sai che non portavo questa serie? Un attimo mi ero bloccato Perché... Ho avuto un sacco di difficoltà con questa serie Tra il nether, tra gli aggiornamenti, le varie situazioni Quindi avevo un attimino messo tutto in pausa Abbiamo il mare davanti a noi Ma abbiamo una barchetta Siamo preparati per tutto Qualsiasi evidenza, siamo preparati, signori E ora però mi è tornata voi Perché me l'avete chiesto in live di riportarlo E io, sinceramente Mi sono fatto riprendere un attimino la cosa E abbiamo riportato anche la Maullo Craft in live Anche perché Questo canale è partito con la prima serie di Minecraft Che ricordo a tutti Chi non l'avesse mai vista la può andare a recuperare C'è la playlist della prima serie di Minecraft Là ci sa che c'è un tempio sotterraneo Ma noi facciamo finta di nulla E tiriamo avanti Vedi come si scoprono le cose praticamente nel vicinato Nel vicinato abbiamo il mondo Per esempio non abbiamo mai trovato una barca, signori Forse sì, no Non abbiamo mai trovato una barca Dovremmo trovare anche una barca prima o poi Vabbè, io continuo ad andare avanti Appena trovo isola Una isola dove poter attraccare Lancio la prossima Ender Pearl E vediamo cosa succede, signori Altro lancio, signori Vediamo se la direzione è ancora quella giusta Sì, la direzione è ancora giusta Mi sa che ancora siamo lontani Dai così Recuperala Ok Là c'è un isolotto di sabbia Ok C'è terra Terra ferma, signori Meglio così Meglio così Meglio così C'è un po' di terra ferma Va bene Va bene Giriamoci attorno però E continuiamo ad andare in quella direzione Bene Il fatto che ci sia terra ferma è già tanta roba Almeno non dovrò scavare sott'acqua Per recuperare La nostra Per entrare No, 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 no Devi salire sopra Ok Rompere la barca Recuperarla Recupera la barca, zio Ma parca Devi recuperare la barca, ti ho detto E ti diamo un'altra bellissima Ender Pearl, signori Sperando che Siamo ancora in direzione giusta Ok, sì Siamo ancora in direzione giusta Mi ritorni a me Tornate a me Siamo a 12 su 12 ancora Andiamo avanti, andiamo avanti Andiamo avanti, signori Tutto bianco davanti a noi Tutto bianco Questa zona sarebbe bella costruirci qualcosa Per il Natale In tema natalizio Siamo No Dove sta la ender Un tempio Un vecchio tempio, signori Intanto dobbiamo andare in questa direzione Quindi dobbiamo andare dove sta calando il sole Ricordiamocelo Fermi tutti Che qua abbiamo beccato un vecchio coso C'è la cassa C'è la cassa, signori Che fortuna Apri, apri Che abbiamo trovato? Degli stivaletti con d'oro di protezione Questi sono buoni Se dovessero andare a fine nel nether Ok Queste non ci possono servire più di tanto Però ce le portiamo a casa Dai così Uno Due E tre Come cazzo la si faceva? Ok La selce ce la portiamo pure E questa È stato un piacere Questo lo lasciamo così com'è C'è solo una cassa, vero? Solo una Sì, sì, sì Allora Ok L'ossidiana ce l'abbiamo Quindi non ho bisogno di prendere l'altra ossidiana Andiamo in quella direzione, signori Andiamo un poco avanti Superiamo queste colline Poi mettiamo Arriviamo su quella collina là sotto Mettiamo il letto Dormiamo E E poi ci prepariamo a tirare l'altra enderper Signori Vediamo Se Stiamo facendo bene O se già siamo andati oltre Ok Siamo Di fronte il sole Letta terra Letta terra Letta terra Letta terra Letta terra Dai così Letta terra Dormiamo Il punto di rinascimento è stato impostato Questo è un grandissimo problema Perché io Forse dovevo prendermi meglio le coordinate di casa, signori Io non ricordo dove ho scritto le coordinate di casa Da qualche parte ce l'ho scritta sicuramente Allora, di qua il sole sta sorgendo Quindi dobbiamo andare di là L'angelo dell'enderper Ragazzar No 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 Signori non ho visto l'enderper Dove cazzarola è andata? Avete visto voi l'enderper? Io non l'ho vista proprio Dove sta l'enderper? Ci siamo signori Ci siamo Ci siamo signori L'abbiamo trovata E qua sotto E qua sotto signori Abbiamo trovato la fortezza Allora Sapendo come funziona Minecraft Scaviamo prima così E poi così Perché se ci scaviamo sotto i piedi E caschiamo di sotto Finiamo veramente male Dai così Scendi 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 la fortezza deve essere qui sotto Signori La fortezza deve essere qui sotto Speriamo di aver scavato nel punto giusto C'è del carbone Ma il carbone non ci serve Vogliamo la fortezza Dimmi che sta qua la fortezza Dai 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 ti prego Sento dei pipistrelli Sento dei pipistrelli Sento dei pipistrelli E la cosa è buona Sento dei pipistrelli E la cosa è buona Dai 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 Fortezza C'è una grotta Ma no Ma c'è un dungeon Ma di che stiamo parlando? Ma io voglio la fortezza Ma è qua la fortezza? No Ho trovato un dungeon Signori Ma che me ne frega del dungeon Dov'è la mia fortezza? Tanto voi non starete vedendo niente Perché non Ma dov'è la mia fortezza? Ma che paranoia Ma doveva essere di qua la fortezza? Scusatemi Piccolo taglio Piccolo break Signori Piccolo taglio Signori L'abbiamo trovata L'abbiamo trovata Era semplicemente più sotto Di dove stavamo scavando noi Dovevamo scendere ancora un po' di più Dai così Ci siamo signori Abbiamo la fortezza Porca di una miseria Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Signori Allora Tutto quello che adesso Noi dovremmo riuscire a fare È Trovare il portale Però qua vedo Qua vedo tanta cacciara Signori E questa cosa non mi piace Tante situazioni strane Allora io possiamo mettere Ok Questi di qua Così siamo un attimo No Sto scemo io signori Certamente sto scemo io Comunque Allora Fermi tutti Spada in mano Torcia Ok Stiamo calmi La fortezza Ce l'abbiamo signori Abbiamo la fortezza Dobbiamo stare attenti a non farci ammazzare subito Riusciste a trovare anche Ma perché sei tutto scemo Dico io Leva sta cosa qua Leva questo Andiamo direttamente di qua Facciamo prima Buongiorno Salve Sto cercando Un portale Mi servirebbe trovare Mamma mia È tutta distrutta sta fortezza Mamma mia Che cosa è brutta Si sentono pure strani rumori Allora signori Detto questo Io vi ringrazio Per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi L'esplorazione della fortezza E La ricerca del portale E l'attivazione La rimandiamo al prossimo video Bella raga Ciao Ciao Grazie a tutti.